Un applauso per il sindaco Moreno, appena eletta d'Arluno. Allora, la scuola d'Arluno è nata grazie al sostegno del comune, lui era l'assessore alla cultura, ci ha sempre sostenuto, ma so che sei arrivato in ritardo, ti sei perso l'orchestra, quasi quasi li faccio risuonare. Va bene, parole. Sono arrivato in ritardo perché ho fatto gli esami qui a Vareggio della scuola media, dove sono passati anche Fabio Pedroli, Luca Mancusi, quelli che hai citato, sono passati sotto le mie grinfie. Fabio Didi sì? Bravo. Chi era più bravo tra me e te? Bravissimo. È vero, tutto vero quello che dice Rosari, adesso mi trovo in veste da sindaco a vedere questa performance, sono molto contento, la scuola sta avendo grande successo, continuo ad averlo. La speranza, come sempre, è che tutto questo torni anche ad Arluno, oltre che qui, perché comunque anche qui so che c'è un'evoluzione della scuola, nuovi spazi, mi hanno già raccontato tutto e non sei stata tua a raccontarmi. Non dico dove, so anche dove, poi non si può dire, previo pagamento poi vi dico dove, quindi scherzi a parte. Ho l'impegno di fare il saggio ad Arluno l'anno prossimo. Sarà tre anni, che me lo dice? No, cerchiamo lo spazio, ce lo devi trovare. Questo è vero. Detto questo, grazie, vengo qui in mezzo. Io faccio i complimenti come sempre e come sempre chi ne gode di più di questi momenti siamo noi che ascoltiamo. Avanti così e viva la mia nuova scuola di musica. Grazie, di Arluno.